musica bella raga, qui mego07 oggi ne ho nuovissimo video vlog Allora, praticamente, ora sto andando a scuola e oggi ho la verifica di Epica, cioè, quindi mi serve proprio spudo, anche se ho studiato ieri, però penso che sia facile, cioè, ecco, speriamo che usciamo le dita. Comunque, volevo dirvi se vi piace la mia intro, quella nuova dell'ultimo video, che mi lascio qua sotto in descrizione, andatela a vedere. Comunque, voglio dire grazie perché siamo a 20 iscritti e specialmente grazie anche a un mio amico che mi ha consigliato tanto cosa su Instagram e niente, continuate così. Iscrivetevi e lasciate like. Poi ora, non so se vado a prendere la merenda oppure no. Comunque, da domani un po', cioè, da oggi posso ritornare a giocare a calcio se Dio vuole. Almeno, posso ritornare a calcio se Dio vuole, non so se cosa sembra, cioè, tipo, ho messo e mezzo di stop, che c***o posso ritornare a giocciare. Niente, raga, sto troppo felice. Comunque, dai, su, raga, siamo quasi a mille, a mille follower su Instagram. Quindi, dai, su, cerchiamo di arrivarci a mille follower. Che a 1K posso fare. Cioè, faccio una sorpresa. Comunque, visto che siamo arrivati a 20 iscritti, farò questo video che però prima, cioè, dovrò passarlo a un mio amico perché, almeno così, per lui che mi intervista a queste cose non così mi dice che sbaglio, che posso migliorare, perché, raga, ci vediamo, raga, continuo il vlog di stamattina e, cioè, cioè, fanno le cartellini, le tecnologie che sono sdatte, cioè, si rompono subito, cioè, pensate un po', cioè, pensate un po', raga, che merda che so. Cioè, raga, del tipo, proprio delle merde, di cartellini, perché si rompono subito. Comunque, raga, niente, continuiamo oggi il vlog, se escono anche i miei amici, fammo la parte con lei, sta pure riovendo, ma sto registrando. Scusate per il rumore, ma stanno asfaltando la strada, quindi scusatemi per il rumore, ma niente, la sto andando a casa, anche qui non la sto, devo asfaltare, niente, raga, io sto andando a casa, infatti passa una macchina, cioè, un vestirmo, uno ti gira, che è il culo, e niente, raga, dopo penso che non esco più, quindi, al limite, smonto tutto, perché usci penso se non esco più, perché piove, non so che l'ho potuto vedere, ma sta piovendo, ha già tutto lo schermo bagnato, cioè, guarda, vedi tutto che bagno, insomma, ha un po' tutto bagnato, e quindi non esco, però uscirò al quattro e mezzo, più o meno, per andare a prendere, per andare a prendere le cuffiette, però l'unico problema, che siccome c'era qualcosa di, che volevo fare, quella sorpresa, che vabbè, ora il svelo è di maschere, però il problema è che non, cioè, l'ho fatto, però non penso sia venuto molto bene, perché la maschera era brutta, quindi tanto che va a prendere le cuffiette, va a prendere anche la maschera, non so nemmeno che maschera prendo, ma comunque prendo una maschera. Allora, raga, colmico 07, benvenuto oggi in un nuovissimo video-vlog. Allora, raga, ovviamente ora sto aspettando il mio amico, che non si sa se viene perché non risponde ai messaggi, quindi vorrei tanto sapere. Quindi, cioè, speriamo che viene magari, perché non mi caca che non mi risponde. Niente, calmeno registravo anche un pochino, calmeno non riposto a registrare. Allora, raga, intanto non ho notizie, quindi intanto io lo aspetto dove ci siamo, diciamo, dati l'appuntamento, se non viene, pace, cioè. Cioè, ma non so il perché, ci stiamo a essere d'accordo che quando torno a comprare l'AirPods, l'AirPods, lì come si chiamano, altrimenti lo chiamavo, l'ho chiamato, ma non mi caca. Cioè, questo è il problema perché non so se c'è, perché squilla e squilla al telefono. Oh, boh, cioè. Però, raga, ancora non sto avendo nessuna notizia, io comunque ho scritto l'aspettato di 10 minuti e dopo, basta, dopo al limite ritorno. Eee, niente. Ora, boh, intanto possiamo vedere le gru, i scavatori, lì che so. E io aspetto altri 10 minuti, dopo se lo vedo, ma non lo vedo, magari. Continuo a registrare, se no me ne ritorno a casa mia. Che, scusa, ma me lo rispondono. Cioè, boh, intanto io sono seduto qua. Mi sto aspettando sulla notizia. Quindi, ci vediamo appena so qualcosa. Grazie. Grazie.